ben tornati su caldiossonavia.it oggi parliamo di potenze arcontiche e potenze angeliche in realtà stavolta più che altro di potenze angeliche dato che di potenze arcontiche se ne parla già abbastanza non è detto che non continuiamo a parlarne anche qui dato che queste potenze si fanno sentire e danno un ruolo determinante nella vita degli esseri umani e nell'evoluzione delle anime però in tutto questo spesso mi viene chiesto come mai se le potenze arcontiche sono così presenti di contrasto le potenze angeliche non lo sono anche loro in realtà sembra che le potenze angeliche siano quasi assenti ma perché gli angeli di dio fanno l'esatto contrario di ciò che fanno le potenze arcontiche e cioè hanno un ruolo più tra virgolette passivo nel senso che gli arconti cercano continuamente di parassitare l'uomo di indurre l'uomo nel vizio e comunque di essere sempre il più possibile presenti con la loro azione parassita nell'esperienza terrena delle anime durante la loro incarnazione al contrario le potenze angeliche aspettano l'uomo lo attendono e nel senso che lo lasciano al suo libro arbitrio e gli lasciano la possibilità di fare esperienza proprio in funzione dell'azione parassita degli arconti le potenze arconti che dunque non sono al di fuori del disegno di dio non sono diciamo delle antagoniste della potenza di dio della potenza degli angeli ma hanno anche loro la loro funzione che comunque contemplata dal dalla creazione intera e dal dal disegno dal senso dal significato della vita gli arconti però come dicevo tendono a opprimere l'uomo rimanendo presente all'uomo le potenze potenze angeliche invece lo attendono lasciano che l'uomo eserciti il proprio libro arbitrio e che faccia esperienza dei propri errori salvo qualche volta intervenire senza che l'uomo se ne accorga dato che le potenze angeliche sono più potenti delle potenze arcontiche perché pur essendo delle entità spirituali che operano in quarta dimensione operano ad un livello più alto della quarta e danno più potere diciamo in di influenzare lo spazio ed il tempo all'interno del quale l'essere umano fa esperienza in verità come spiego spesso lo spazio ed il tempo non esistono sono comunque una un parto della coscienza dell'uomo e in ogni modo per farmi comprendere e per far comprendere come le potenze angeliche talvolta influiscono e indirizzano e talvolta salvano gli esseri umani dalla distruzione o dall'autodistruzione talvolta da incidenti catastrofi che potrebbero coinvolgerli eccetera eccetera quando in sostanza le potenze angeliche decidono che in quel momento lì quell'anima lì deve continuare a fare l'esperienza in quella incarnazione e allora se decidono questo la salvano manipolando lo spazio ed il tempo o meglio lo spazio ed il tempo per come lo intende l'uomo e comunque in ogni caso salvandolo diciamo ad esempio durante un incidente agendo rallentando il tempo o accelerandolo un attimino in modo che un danno grave non avvenga in modo che il momento in cui quell'uomo quella donna sarebbero dovuti morire in un incidente magari subendo danni gravi eccetera eccetera vengono salvati perché talvolta basta proprio un secondo prima un secondo dopo per cambiare completamente la situazione oppure basta essere in una determinata posizione piuttosto che un'altra ma di pochi centimetri di differenza specialmente durante un incidente ad esempio automobilistico possono fare la differenza tra la vita e la morte ecco le potenze arcontiche scusate le potenze angeliche hanno più potere su questo delle potenze arcontiche e sono meno meno visibili e si fanno individuare di meno proprio per non condizionare la vita dell'essere umano e non far sì che l'essere umano si affidi eccessivamente a loro le potenze arconti che invece come vi ho detto cercano sempre di essere presenti ed anche se si mostrano ed anche se le persone sanno che esistono e le temono non insomma non gli dispiace questa cosa ecco questa è la risposta alla domanda che ogni tanto mi viene fatta riguardo le potenze angeliche insomma di questa ipotetica mancanza di questa ipotetica assenza delle potenze angeliche che invece non esiste che le potenze angeliche ci sono e continuano ad operare è solo che lo fanno in modo diverso rispetto alle potenze arcontiche e ribadisco che tutto fa parte del disegno di dio non vi è nulla al di fuori ed è sbagliato credere che satana e il demonio siano indipendenti da dio e che addirittura siano antagonisti di dio che dio sarebbe il vostro se si ritrovasse degli antagonisti nel demonio e in satana sarebbe un dio debole facilmente intaccabile nel suo disegno e questo questo non è possibile non è così perché tutto fa parte del disegno di dio e anche il male ha il suo preciso scopo il suo preciso significato all'interno dell'evoluzione delle anime che sono le emanazioni di dio che sono onde di quinta dimensione che vengono ad incarnarsi sulla terra per completarsi con un io cosciente come ripeto spesso gli anime sono onde le onde più profonde che ci siano di quinta dimensione che però sono forme di coscienza onnipervadente ma comunque senza una coscienza di sé si incarnano per fabbricarsi un io e tornare al padre come degli io sono Gesù Cristo ci ripeteva proprio questo e questa forma di coscienza ulteriore questa forma di autocoscienza loro le anime se la formano sulla terra nella loro incarnazione proprio per via dell'interazione delle potenze arcontiche delle potenze angeliche e di tutto questo movimento energetistico entro il quale rimangono immerse per fare esperienza è chiaro che poi né le potenze angeliche né le potenze arcontiche sono quello che l'essere umano si immagina o che l'essere umano talvolta percepisce proprio perché il cervello dell'uomo tende comunque a dare forme antropomorfe a qualsiasi tipo di entità si ritrovi davanti anche durante il sogno ciò non significa che le potenze arcontiche abbiano per forza sembianze di grigi sembianze di rettiliani eccetera eccetera esattamente come non significa che le potenze angeliche abbiano sempre forma di o angioletti bianchi o blu oppure di di santi o di entità etere insomma quelle sono interpretazioni che la mente dà a delle forme di energia che comunque sono forme di intelligenza elettromagnetica viventi e presenti all'interno della creazione multidimensionale olografica ed elettromagnetica di Dio Padre ecco e sono comunque delle forme di energia contrastanti che devono coesistere proprio per generare quel flusso quel vortice di energia che talvolta il mistico identifica come un flusso rosso e blu elettrico che in continuazione si si manifesta come un vortice e con un puntino di equilibrio sempre blu elettrico al centro proprio diciamo così l'occhio del ciclone no che è il punto di equilibrio di beatitudine quello al quale bisogna nell'are si manifestano così e quello è il loro lavoro è un lavoro che è da identificare come un lavoro energetico frequenziale vibrazionale non c'è da immaginarsi diavoletti angioletti e neppure entità etere o alieni rettiliani grigie eccetera eccetera ciò non significa che poi la mente umana li identifichi proprio così talvolta quando si presentano esattamente come la mente umana travisa tutta la realtà che la circonda dato che come ormai è risaputo ed è stato anche provato scientificamente dal momento in cui è stato scoperto l'atomo elettromagnetico che è al 100% energia tutta la realtà all'interno della quale l'essere umano fa esperienza è simbolica e non corrisponde assolutamente a ciò che l'essere umano si immagina quello che l'essere umano vede questo come ripeto spesso non significa che ci si debba sentire all'interno di una di una simulazione di una presa in giro semplicemente è un modo che Dio ha per manifestare la creazione utilizzando il minimo dispendio energetico possibile Dio si manifesta attraverso l'energia attraverso l'elettromagnetismo non attraverso la materia densa che l'uomo esigerebbe nel suo egoismo talvolta per poter dire per arrivare a dire che questa è una vera realtà ecco tutto è vero ugualmente soltanto che il palinsesto è stato creato e viene mantenuto da un sistema che è chiaramente il più economico possibile dal punto di vista energetico ecco questa questo video riguardante le potenze angeliche e le potenze arcontiche lo chiudiamo qui per adesso torniamo a parlare di questa cosa più avanti dato che è un argomento piuttosto vasto bene per adesso vi saluto vi ringrazio vi sprono come sempre ad iscrivervi al canale commentare se volete e alla prossima grazie ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti